Il sindaco di Nocera Inferiore Torquato ha sollecitato nuovamente Gori ed Arcadis a trovare le risorse adeguate per intervenire sui collettori fognari. Alcuni cittadini sono infatti preoccupati per il sistema fognario edraulico giudicato inadeguato con i torrenti inadatti a contenere portate d'acqua straordinarie come quelle che hanno interessato il territorio comunale alcune settimane fa durante la forte ondata di maltempo. I soggetti di competenza ad intervenire che sono la Gori e l'Arcadis, l'Agenzia regionale Campania per la difesa del suolo e la Gori, il soggetto privato di competenza dell'ente d'ambito sarnese-vesuviano, cioè quello che gestisce gli allacciamenti fognari, sono stati ancora una volta fortemente sollecitati a recuperare le risorse necessarie per gli interventi di collettamento fognario di ciò che in ambito territoriale e comunale scarica in alveo. Questa è una necessità nell'ambito delle generali operazioni di bonifica e di tutela dell'ambiente che ormai sempre più tutte le amministrazioni comunali sollecitano ma che deve però poi trovare esecuzione nei lavori che debbono fare quelli che li debbono fare, quindi non il Comune di Nocero. Quali sono le zone che in questo momento avrebbero ancora bisogno di questi sottoservizi? Sicuramente tratti della Cavaiola, ci sono poi tratti di estensione degli allacci e reti fognari, al di là del fatto di quelli che sversano in alveo, che sono la zona di Torricchio, la zona del cimitero, di Chivoli, alcune zone ancora interessate nella parte di Fiano, lì c'è poi un altro problema in corso e ci sono ampi distretti interessati da questa necessità di collettamento e di allacciamento fognario.